L'Italia, l'Italia! Nel corso dell'ultimo secolo anche il tacco italico aveva acquistato la consapevolezza di appartenere allo stivale. Eppure fuori dalle sale dei comuni e delle scuole pochi sapevano cosa volesse dire veramente nazione, dove si trovasse Roma e quale vantaggio potesse portare alla povera gente la tanto famigerata unità. Dai centri rurali salentini gli uomini erano stati chiamati alle armi comunque e nella loro ignoranza erano andati incontro alla battaglia alla morte lasciando a casa mogli, figli e campi. Era nelle piazze dei paesi che si faceva politica e gli anziani e i giovani si dimostravano sempre i più accalorati. Ogni tanto si sentiva masticare il nome di Garibaldi accanto a quello dei poveracci che alla grande guerra non erano più tornati. Come se la sovrapposizione di angosce e di entusiasmi annullasse il tempo e la storia. Si chiamava Carmela e anche a lei era partito un figlio da poco. Le avevano detto che Gigi avrebbe raggiunto le truppe italiane in un posto chiamato Veneto. In un anno a Carmela era arrivata una sola lettera in cui il figlio raccontava che dove si trovava c'erano montagne altissime che la minestra era poca ma buona e che di notte per riscaldarsi dal freddo accedevano il fuoco in una casetta di pietra costruita da soldati rimasti a guardia prima di loro. Chissà chi gliel'aveva scritta quella lettera e chissà se Nino il figlio della comare Lina le aveva letto tutto proprio tutto quello che ci stava scritto. Cucettì! Aveva allora urlato Carmela senza perdersi in chiacchiere e in men che non si dica era arrivata davanti al gruppetto di donne una bandina scarmigliata dall'apparente età di sette anni. La bimbetta sempre in silenzio era fuggita lesta per le stradine del paese cercando di guadagnare la meta e la ricompensa nel minor tempo possibile. La mamma al ritorno l'avrebbe sicuramente premiata con un mandarino. Assunta si era avvicinata a Carmela comunicandole tutta la sua riconoscenza con una forte stretta di mano. Suo marito Giuseppe era partito solo da pochi mesi ma per lei che la geografia non l'aveva mai studiata sarebbe potuto trovarsi sulla luna così come a Taurisano non c'era. Era rimasta sola in paese con due figli tetta di cinque anni e pippinu di tre. Neanche dieci giorni prima si era fatta ritrarre in una foto insieme ai figlioletti. Voleva spedirla al fronte perché il marito potesse ricevere il loro affetto vedendoli pur senza averli vicini. Per l'occasione aveva tirato fuori dalla scatola le sue scarpe da sposa. Aveva chiesto in prestito a sua cugina la brillantina per i capelli suoi e di tetta e si era presa il lusso di comprare alla bambina un bel fiocchetto rosa dalla merciaia anche se Assunta era ancora giovane. Gli stenti avevano scolpito sulla pellicola un'immagine di lei più affaticata mentre i figlioletti erano stati immortalati, incuriositi e spensierati. Quel giorno tetta aveva fatto il giro del quartiere per esibire davanti alla nonna e alle amichette il suo bellissimo fiocco nuovo mentre a Pipinu era stato fatto indossare il saio francescano appena lavato e stirato. Questa veste era il voto che Assunta aveva fatto a Sant'Antonio da Padova. Il santo aveva salvato suo figlio neonato da una brutta malattia ai bronchi e lei gli aveva promesso di vestire il piccolo col saio fino al compimento del quarto anno di età. Sarebbe stato felice Giuseppe di vedere da quel posto lontano dove ora si trovava la sua famiglia che lo aspettava fiduciosa. I soldi per spedire quel conforto di carta al povero Pipi non ci furono mai. Intanto davanti a casa di Assunta era arrivato Nino scortato dalla piccola concettina. Dopo un cenno promettente della madre la bambina era tornata a giocare fiera di aver compiuto il proprio dovere mentre il giovane si era avvicinato ad Assunta per farsi consegnare la lettera da leggere. «Moglie cara!» e giù righi su righi sillabati da Nino con tutto l'impegno e la passione di cui era capace. Agli echi di quei sentimenti accorati le guance della giovane sposa si erano rigate di lacrime silenziose e, oltre alla rassicurazione che il marito stesse bene, aveva continuato a ranzarle nella mente l'unica terribile realtà che la coscienza le avesse regalato finora. L'assenza. Con i buoni per il latte, il riso e il pane, consegnate a lei e ai più bisognosi dalle suori di carità, Assunta aveva cercato con tenacia e coraggio di andare avanti, ma si sa. «Tra la bocca e la gola vi è un miglio!» Nel corso di quell'anno gli stenti per la famigliola erano stati così gravosi che la giovane mamma si era trovata costretta ad affidare il piccolo Pippinu a una zia nubile e, per la fame e per il dolore di essersi dovuta separare dal figlio, nel giro di pochi mesi, Assunta, si era lasciata ingoiare dalla tubercolosi.